La proposta di riforma europea del regolamento di Dublino sull'immigrazione lascia inalterate gran parte delle criticità che ricadono sui paesi di primo ingresso come l'Italia. Così la ministra dell'Interno Lamorgese in audizione al Senato. Riteniamo troppo ampio lo spazio discrezionale sulla scelta del tipo di contributo, di solidarietà a cui vogliono aderire, con il rischio di rendere la ricollocazione uno strumento meramente facoltativo. L'Italia ha più volte ribadito la necessità di distribuire equamente la pressione degli arrivi tra tutti gli stati dell'Unione, senza prescindere da una quota minima obbligatoria, almeno per quelli sbarcati dopo gli interventi di ricerca e soccorso in mare. Quello dei rimpatri inoltre resta il tema cruciale per l'efficacia delle politiche migratorie. La presidenza di turno tedesca, ha ricordato Lamorgese, si è conclusa senza un'intesa politica sui principali temi, anche se sono già stati intrapresi i primi contatti con la nuova guida portoghese, per trovare soluzioni condivise. Grazie. Grazie.